Non sarete più soli perché vi hanno raggiunto Cicciolina e Milano Lassi! Vi hanno lì da noi su Playa Sgamada! Benvenuti! Ciao Ilona, ciao Marco! Allora questa è una sorta di pit stop, da questo momento riparte tutto da zero, voi potrete rientrare in gioco oppure essere eliminati definitivamente. Loro sono Ioana e Roger e voi da questo momento siete sciolti, non siete più una coppia ma siete tutti singoli e questa sarà la vostra spiaggia per i prossimi giorni, quindi inizierà una nuova convivenza a quattro. Ok? Non ci sono coppie! Perfetto, tutti singoli! Siete tutti singoli! Roger sei contento? Perfetto! Roger sei contento? Sì!